Ciao, in questo video vi faccio vedere come fare un altro tipo di base per la torta e cioè la torta vittoriana, che prende il nome appunto dalla regina Vittoria la quale se la mangiava di pomeriggio con il suo bel tè è la torta preferita degli inglesi perché è molto soffice e molto buona ed è anche chiamata la quattro quarti e spero che la provarete e che piaccia anche a voi gli ingredienti sono burro, zucchero semolato, uova, farina autolevitante e estratto di vaniglia in una planetaria metto lo zucchero e il burro e lo faccio sbattere fino a quando non ottengo un composto omogeneo e spumoso aggiungo le uova una alla volta con un cucchiaio di farina e continuo a mescolare quando ho aggiunto tutte le uova metto la vaniglia e poi mescolo la farina, la rimanente farina ed inizio a mescolare dal basso verso l'alto metto il composto in una teglia e poi la metto nel forno preriscaldato a 160 gradi per circa 1 ora e 45 minuti quando la torta è pronta poi la torgo dal forno e la faccio raffreddare del tutto prima di tagliarla altrimenti si sbriciola e poi la torta è raffreddare del tutto prima di tagliarla